Grandioso, ma per essere proprio sicuri che registri, forse dovremmo recitare una preghiera al Dio TV. Oh, Grandio TV, ti ringraziamo dei doni che ci hai dato. Solo un Dio poteva permettere di stoppare l'immagine per andare in bagno. E che dire del dispositivo salta spot? Sembrerà eccessivo chiederti ancora di più. Oh, magica scatola. Ma se per caso tu ti inceppi e perdiamo il Super Bowl, ti distruggeremo a colpi di mazza da baseball. Amen.